Nella puntata di oggi il nostro Vatte, Adino Libralatto, ci parlerà di una delle sagre di Moniego, quella di Sant'Urbano. Una delle tante sagre che la comunità di Moniego tiene su è quella di Sant'Urbano, che si festeggia nell'ultima decada di maio. Con il nome di Urbano I, Papa a Roma per nove anni, è morto tra il 19 e il 25 di maio dell'anno 230. Si dice che a Sant'Urbano, Ua e Formento, si è ammesso gran. In particolare, sto santo è di invocare la protezione di Ua contro il pericolo delle brose tardive. Anche il vino va sotto il suo occhio, perché quei primi caldi non vaga il naseo o non ciapa il cagnon. In onore a questa tradizione, per tanto tempo, fino a qualche anno in Rio, a Moniego, si organizzava l'interessante mostra dei vini veneti, paropera del compianto dottor Luigi Nobovo. Dopo la sua scomparsa e col nascere di altre iniziative, la mostra si era persa, da Sant'Urbano a altre robe, tipo la camminata, andare per l'erbe. Quello che però continua a tenere banco, resta a gran mani ora da sempre organizzata, a scopo sociale, da una imbattibile squadra, di bravi cogi e bravi cogi, sostenuti da un servizio ben curato. E questa è la seconda sagra di Moniego. Più avanti gli vedremo di altre, perché sto paese, star fermo non si è buono, senza una sagra per ogni stagione.